E' arrivato l'accordo dall'Eurogruppo sul sostegno ai paesi maggiormente compiti dalla crisi del coronavirus, con un pacchetto di aiuti da 500 miliardi di euro. Dopo l'acceso dibattito dei giorni scorsi, che ha visto i paesi del sud Europa chiedere gli eurobond come possibile soluzione e la posizione contraria dei paesi nordici come Germania e Olanda, si è giunti ad un compromesso. 3. Le proposte approvate. Ha avuto il sì l'iniziativa SURE della Commissione Europea a sostegno della Cassa Integrazione dal valore di 100 miliardi di euro. Voto favorevole anche per il potenziamento della BEI con 200 miliardi destinati alle piccole e medie imprese. Il MES, meccanismo europeo di stabilità, ha ricevuto l'ok a un finanziamento di 240, ma con alcune modifiche. Tolte alcune condizionalità, gli Stati membri possono accedervi perché utilizzino le risorse per sostenere spese sanitarie per la cura e i costi della prevenzione dal Covid-19. I paesi, specifica Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, possono richiedere fino al 2% del loro PIL, per l'Italia circa 35 miliardi. Questo plan di emergenza potrà scegliere il nostro fabbrica economico e sociale come si tratta di una recessione. Quando la crisi di salute si abitano, ci dovremo spettare la recuperazione economica. È imperativo di crescere insieme e non separare, e di proteggere l'interno del mercato interno per farlo. Ora si prepara il Recovery Fund, un piano di ripresa per l'economia che sarà temporaneo e commisurato ai costi della crisi. Ma quale sarà questo finanziamento è presto per dirlo. A decidere saranno i capi di Stato e di Governo. La continuità del settore agroalimentare rischia di non essere più garantita senza l'immediata apertura di altre filiere funzionali come quella delle macchine agricole, industriali e della componentistica. A lanciare l'allarma è Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di filiere Italia. Per Scordamaglia il settore può essere il modello secondo cui predisporre la fase 2 dell'emergenza coronavirus. Analizzando l'andamento dei contagi nelle filiere aperte dall'agroalimentare alla farmaceutica all'energia, secondo filiere Italia è possibile evidenziare come le misure di protezione dei lavoratori applicate e il protocollo sottoscritto tra parti sociali stiano funzionando, coniugando protezione e produzione. I dipendenti di Eni hanno raccolto oltre 600 mila euro in tre settimane nell'ambito di una raccolta solidale al sostegno della Croce Rossa italiana in questo periodo di emergenza coronavirus. La 18 marzo al 9 aprile le persone Eni hanno scelto di donare il valore di un'ora o più del proprio lavoro attraverso un'iniziativa proposta dai dipendenti e lanciata dall'azienda che raccoglie le ore donate e le devolve alla Croce Rossa italiana. Questa iniziativa mi rende particolarmente orgoglioso perché è nata spontaneamente dalle nostre persone e mostra come continuino a rimanere solidari e a pensare a chi ha più bisogno, ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. I prezzi delle case sono aumentati del 4,2% nell'area dell'euro e del 4,7% nell'Unione a 27 nel quarto trimestre del 2019 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. I dati si riferiscono ad un periodo antecedente all'entrata in vigore delle misure di continuimento del Covid-19 e sono stati resi noti da Eurostat. Rispetto al terzo trimestre del 2019 i prezzi delle case sono aumentati dello 0,7% nell'area dell'euro e dello 0,8% nell'UE A27. Tra gli stati membri i maggiori incrementi annuali nel quarto trimestre sono registrati in Lussemburgo, Slovacchia e Croazia e sono diminuiti solo a Cipro. Grazie a tutti.